Era a passeggio con il nipotino quando, due anni fa, per lui scattarono le manette. Adesso il nono spacciatore è stato condannato a scontare due anni e otto mesi di carcere. Questo quanto disposto dal giudice del Tribunale di Arezzo, Angela Avila, nei confronti di un 74enne ex proprietario di un comprooro in zona Saione. La vicenda risale all'ottobre 2018, quando una sera l'anziano uscì assieme al nipotino per una passeggiata come tante altre, ma mentre si trovava nel quartiere di Saione, il 74enne, con precedenti per spaccio e truffa, scambiò alcune parole con un noto tossico dipendente, particolare che catturò l'attenzione delle forze dell'ordine che stavano perlustrando la zona da tempo sotto la lente di ingrandimento. Scattò così immediatamente la perquisizione personale del giovane acquirente dalla quale uscirono 0,9 grammi di cocaina. Fu così controllato anche l'anziano. Nelle sue tasche furono trovati 1.000 euro e alcune dosi di droga. I controlli poi si spostarono anche nella sede dell'azienda, poco distante da dove stava avvenendo lo scambio di droga tra i due. Lì furono trovati nascosti 88 grammi di cocaina. Tanto fu sufficiente per spingere le forze dell'ordine a mettere le manette ai polsi all'anziano. Ieri in Tribunale ad Arezzo si è tenuto il rito abbreviato, durante il quale sono state concesse le attenuanti per l'età e per la buona condotta fin qui tenuta. Questo nonostante i precedenti. L'uomo difeso dall'avvocato Alessandro Mori è stato così condannato per spaccio a due anni e otto mesi.